Perchè a me le donne mi hanno sempre aggredite, capito? Buonanotte, buonanotte Fiorellino Capito, io devo telefonare alla mia amica a Los Angeles No, non ho niente da mettere Sono i doni Che c'è? Se viene un amico a casa che cosa gli offri? I Gretz Queste, il silicone, non sanno nemmeno cosa siano Toccare E poi mi sbatti al telefono in faccia, brutta strada che non sei a Non mi chiamare, il giusto che mi chiasse Non apro Non apro Marina Marina, Marina, Marina 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 Ha sentito? Ha sentito? Laaaaaa! Grazie a tutti Grazie a tutti